L'area morta della SNAM attende gli alberi di Italia Viva. L'appello provocazione arriva dal coordinamento Noab del Gas, che ha colto con favore la decisione dei coordinatori di Italia Viva di piantare un albero per ogni iscritto, ma l'invito è quello di partire da Casepente, località dove la SNAM vuole costruire centrale e metanodotto. Lì troveranno il luogo ideale, scrive il coordinamento Noab, una grande area di 12 ettari completamente spoglia, dove sarà fatta tabula rasa di tutti gli alberi da frutta preesistenti per fare spazio alla centrale di compressione della SNAM. Il terreno è stato preparato dal loro segretario Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio. Anche se l'autorizzazione della centrale è un regalo del governo Gentiloni, la maggior parte del merito della desertificazione di Casepente va a Renzi. È sotto il suo governo che l'iter autorizzativo della centrale ha superato tutti gli ostacoli, grazie anche all'encomiabile zelo del sottosegretario Claudio De Vincenti, che non si è risparmiato nel difendere desiderata della SNAM. Renzi ha pensato bene di inventare lo sblocca Italia, ricorrendo come numerose altre volte al voto blindato per farlo approvare, una legge che più che sbloccare l'Italia ha sbloccato una serie di progetti inutili e dannosi per l'ambiente. Sì, proprio quell'ambiente che oggi Italia Viva dice di avere tanto a cuore tuonano dal coordinamento, che ricordando quando accaduto con la questura conclude e ironizza. Se andate a Casepente e lungo la strada incontrate qualcuno delle forze dell'ordine, non dite che state andando a piantare alberi nel sito della SNAM, ma dite che li mettete in un terreno lì vicino, così potrete procedere tranquilli.